Siamo qui a fine gara, la Polesportiva Toriela ha vinto per una reddita a zero, grazie a un gol di Di Maio. Mi sono buttato in aria, sapevo che giustamente in queste categorie il pallone lo puoi prendere tranquillamente, mi sono buttato, sono stato fortunato, ci ho creduto e l'ho segnato. Bene Cirillo, lei invece il corner l'ha piazzato proprio per Di Maio, vero? Sì, sì, ho visto il suo inserimento da furiale di rigore e ce l'ho messa, meno male che lui è stato cinico nel metterla dentro. Bene, lei invece l'ha operato, aveva una grande partita la sua a centrocampo, era difficile in realtà superare la difesa, era questo il problema. Luciano però ci ha provato diverse volte, ci avete provato voi, insomma era abbastanza complessa l'operazione di poter segnare. Questa era il dunque della situazione. Come analizza questa carta? Il Cosmo sicuramente è una squadra molto forte, si è stata piazzata bene in campo e questa partita si poteva sbloccare solo da un calcio da fermo. Grazie proprio a Di Maio su un calcio d'angolo l'abbiamo sbloccata. Poi siamo stati bravi a mantenere il risultato e alla fine è arrivata la quinta vittoria consecutiva. Bene, ecco Di Maio, in realtà lei ha segnato, si era reso conto che il problema era proprio riuscire a incuniarsi nella rigore, cioè a realizzare il gol. Lei ha cercato in un certo modo da un modo di vista tecnico di poter crearsi insomma uno spazio, vero? Quando è entrato, cioè lei quale metodo e meccanismo ha adottato in un certo senso? Vabbè con l'esperienza diciamo, vabbè in aria giustamente là sul dischetto, il cuore dell'aria è quello là, uno smette là, giustamente sei fortunato. In base alla fortuna praticamente, anche in base all'esperienza giustamente, anche perché il difensore non ha intercettato la sua intenzione in pratica. Ecco invece Cirilo, secondo lei è stato davvero difficile bucare l'area di rigore, però alla fine ci siete riusciti, l'è entrata anche nel secondo tempo. La manchina è sempre determinante. Sì, sì, vabbè noi quando entriamo in campo cerchiamo sempre di dare il massimo, soprattutto prima in priorità per i compagni. Mi fa piacere che il mio compagno di squadra l'ha buttata dentro, sì. Ecco, capitano Ubrano alla fine, prendiamo le conclusioni. Voi siete a quota 19, secondo il mister comunque ha detto che dato che avete disputato un bellissimo campionato, c'è sempre l'opposizione di poter entrare nei play-off perché siete a quattro punti dalla quinta posizione, quindi che si tratta appunto del Real Serino. Quindi siete a quattro punti. Adesso dobbiamo verificare il risultato del Real Serino stamattina. Cosa è successo? Probabilmente i punti sarebbero pure sette nell'eventualità, però c'è una buona probabilità. Siete al ridosso della zona play-off. Lei come giudica? C'è questa possibilità che lei è un giocatore molto tecnico? Sicuramente dopo queste cinque vittorie consecutive, diciamo che l'obiettivo è entrare ora nei play-off. Ora la prossima dobbiamo andare a giocare contro la capolista e cercheremo proprio di portare qualche punto a casa, con la speranza di vincere. Ecco, adesso intervistiamo con le studenti De Piano. De Piano, ecco, De Piano nelle immagini che fa parte della società. Ringraziamo i giocatori che adesso possono fare la doccia. Ecco, De Piano, una grande partita. La Polisportiva Toriello in realtà è riuscita a vincere questa gara per una rete a zero. Una partita molto difficile, come si è potuta vincere dalle immagini. Una difesa molto dura, quella del Cosmos. Alla fine, in effetti, voi, grazie a diversi interventi e incursioni in area di rigore, siete riusciti a sbloccare i risultati. Allora, il Cosmos, sappiamo che era una squadra ostica. Tra quelle che stavano davanti, era l'unica che non avevamo ancora incontrato. Da quando abbiamo fatto gli innesti, non abbiamo perso nemmeno una partita. Abbiamo cambiato il portiere, abbiamo preso il centrale e un'ala che oggi non era presente. La squadra l'abbiamo riqualibrata, l'abbiamo rimessa in campo e stiamo avendo risultati. Certo, è una squadra di esperienza come il Cosmos, batterla è stata difficile. Noi non ci poniamo, come ha detto il mister prima, limiti. È un'esperienza che stiamo facendo quest'anno. L'abbiniamo all'esperienza del settore giovanile, degli esordienti, che pure ci stanno dando enorme soddisfazioni. Andiamo avanti per la strada nostra. Quello che verrà ci prendiamo. Quest'anno è un anno di studio, però qualcuno che ci portava già ultimi in classifica sta iniziando a ricredersi che i cinque partiti di fila non si vincono solo per fortuna o per grazia scese dal cielo. Iniziano ad avere paura anche del Santo Stefano. Bene, ringraziamo De Piano, della Polisportiva Toriello, che ha quota 19 punti a ridosso della zona pre-off. Grazie dell'attenzione qui da Santo Stefano del Sole su Telesport.neim.